L'Università degli Studi del Sagno impegnata su più fronti, formare i suoi studenti, coinvolgerli nei progetti ed inserirli nel mondo lavorativo. È in quest'ottica che si inserisce uno dei focus che si è svolto presso la Sala Conferenze di Palazzo San Domenico in Piazza Guerrazi. Il futuro delle aree interne arriva prima e l'evento organizzato dall'Università del Sagno in collaborazione con l'Istituto Tecnico Industriale Luccarelli di Benevento e l'Istituto Superiore Don Peppino Diana di Morcone. L'obiettivo del convegno è stato quello di esplorare le sfide e le opportunità che caratterizzano il futuro delle aree interne concentrandosi sulle strategie e le iniziative necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale nelle regioni. L'evento ha visto la partecipazione di studiosi e professionisti del settore che hanno offerto contributi, prospettive diverse su tematiche quali l'innovazione tecnologica, lo sviluppo economico, la valorizzazione del patrimonio sociale, culturale e ambientale.